Stop alle zone colorate, modifica dell'uso del Green Pass, eliminazione delle quarantene precauzionali da giovedì, cessa lo stato di emergenza e cambiano le regole per il contenimento del Covid. Dal primo di aprile non sarà più necessario utilizzare il Green Pass per entrare negli uffici pubblici, nelle banche, nelle poste, in tutti i luoghi dove finora era richiesto il certificato verde base nei quali l'accesso adesso diventa libero. Dal primo di aprile per consumare seduti ai tavolini all'aperto di un bar o un ristorante il Green Pass non servirà più. Se invece si vuole bere il caffè all'interno, pranzare o cenare, resta obbligatorio fino al 30 aprile il certificato verde. Basterà anche solo quello base che si ottiene con un tampone negativo. In palestra resta il Green Pass fino al 30 di aprile. Per qualsiasi evento al chiuso gli invitati devono essere muniti di Green Pass rafforzato e non cambia assolutamente nulla per l'uso della mascherina. Per gli over 50 non vaccinati resta l'obbligo fino al 15 giugno di concludere il ciclo vaccinale complese richiano. In caso contrario scatta la multa una tantum da 100 euro. Cambiano però le regole al lavoro. Sin dal 25 marzo infatti gli over 50 non vaccinati possono accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass base. Niente più sospensione dal lavoro dello stipendio per chi non si vaccina come è stato finora. Per gli under 50 che già dovevano presentare il Green Pass base al lavoro non cambia nulla. Nessuna quarantena nel caso di contatto stretto sia per vaccinati che per non vaccinati. A scuola va in quarantena solo lo studente positivo e potranno tornare a scuola con il Green Pass base gli insegnanti non vaccinati ma solo per mansioni che non li vedono a contatto con gli studenti. L'obbligo vaccinale per gli insegnanti resta fino al 15 giugno.